popolo youtube per un attimo un pochino cringe volevo fare qualcosa di stupido decimi episodi di alien prima di incominciare vi ricordo i 5 passaggi commentare iscrivervi lasciare un mi piace condividere questo video attivare la campanella di notifiche e ci vediamo martedì con un nuovo video figuriamoci ragazzi sono perso le armi ho perso le armi tiro una bestemmia c'è un 4 9 3 0 togli la corrente fai dei respiri profondi ti comprimi facile grazie gentilissimo 49 3 0 ragazzi 49 3 0 oh sono nuovo sali sali figa sali oddio that was close baby that was close parnelli server del settore sinistro attivando parnelli server del settore destro attivando stai zitto no regalo tonfato e non guardami scusatemi scusatemi mi state dicendo spero è così con la tuta arancione non possono merire per colpa dell'altro non fa questi qua guarda la faccia di uno disperato dopo che ti dici che questi qua non muoiono neanche con la tonfa cioè neanche con l'amp ragazzi mi prendete per il culo non fa guarda la scari parami stai prendendo per il culo guarda la scari guarda la scari guarda la scari guarda la scari Grazie a tutti Due giorni dopo la partenza Stai scherzando? Figli di puttana! Non è sulla stazione, cazzo! Cosa? Cazzo! 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 Non è non pare a foco? No? 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 No! 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 potrebbe fare seri danni oh si can i have a oh yeah oh yeah easy boys ce ne sono altri ce ne sono altri qua dentro ah avete finito di morire ok ho usato un po' tanti colpi della boss gun ma va bene così ragazzi va bene così perché siamo arrivati al checkpoint oh no oh di ti prevo a ditemi che state scherzando no ragazzi no 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 venga no 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 vai fuori di lì subito devo ripristinare la corrente della piattaforma dai condotti qua giù no no dai ragazzi ma era così bello vi prego carica ah ah Oh Chiudo le comunicazioni Riccardo Oh no No Oh no